Come fa ad essere misterioso e indecifrabile il testo di un autore ancora in vita? Sembra incredibile, ma il Codex Serafinianus, scritto e illustrato da Luigi Serafini nato a Roma il 4 agosto del 1949, è considerato il libro più strano del mondo. L'enciclopedia è un mondo fantastico, reale nell'immaginazione dell'autore, dove flora, fauna, oggetti e macchine si compongono e scompongono secondo la sua ispirazione. Un'enciclopedia, dunque, ma del tutto sui generis. Nelle enciclopedie classiche la sistematicità della catalogazione conduce a un ordine che vuole essere la rappresentazione imparziale del mondo reale, anche se necessariamente rispecchia la cultura da cui deriva, mentre nel Codex questa regola è ribaltata. Anche se è stato scritto secondo una classificazione ben ordinata, ciò che mostra è del tutto estraneo alle cose di questo mondo, in bilico tra un reale riconoscibile e uno sconcertante irreale, per dirlo con le parole di Peter Schwenger, a dimostrazione della vanità del sistema di classificazione enciclopedico, che lascia fuori molteplici modi di vedere le cose. A corollario delle immagini bizzarre, ci sono descrizioni indecifrabili, vergate in un alfabeto inesistente, ma necessario, dove il segno grafico è sufficiente a se stesso, libero dalla necessità di avere un significato. Nessun codice segreto è nascosto nel libro, anche se sono nati alcuni siti web che tentano di decifrare la misteriosa grafia alla ricerca di contenuto occulto, mentre l'intento dell'autore era quello di creare un libro che fosse in grado di rendere tutti analfabeti e quindi potenziali lettori. In fondo il codex, afferma Serafini, è come le macchie di Rorschach, ognuno ci vede quel che vuole. È una sorta di visione oracolare, hai la sensazione che il libro ti parli, ma in verità sei tu che lo fai parlare vedendoci dentro delle cose. Ciao a tutti amici di Vanilla, ancora non vi avevo salutato. Oggi facciamo un'escursione nel mondo della letteratura e dell'illustrazione fantastica, un lavoro svolto dal creativissimo italiano Luigi Serafini, ormai più di 40 anni fa, che è un piccolo capolavoro del moderno surrealismo. Prima di addentrarci nell'analisi dei misteri, se ce ne sono, dietro questo codice, vi ricordo di spaccare il tasto dei like a fine video e di cliccare su iscriviti. A voi non costa nulla, ma per noi fa tutta la differenza del mondo. E ora, cominciamo! Più di mille disegni illustrano il mondo immaginario di Serafini, che oggi lo considera come una sorta di catalogo generale di tutto il suo lavoro, fatto all'inizio della sua carriera e non alla fine come accade di solito. L'artista, architetto, designer che nel tempo collaborerà con famosi architetti e prestigiose aziende d'arredamento, oltre a scrivere, disegnare, inventarsi scenografie e molte altre cose, realizza il codex fra il 1976 e il 1978, dopo anni trascorsi a girovagare per il mondo dagli Stati Uniti all'Africa e all'Asia, zaino in spalla e pochi soldi in tasca. Esperienze che gli trasmettono la voglia, si potrebbe dire, la necessità di far circolare la sua visione surreale del mondo. Una condivisione il più possibile aperta a tutti e non limitata alle sale di musei e gallerie. Se nascesse oggi, dice Serafini, sarebbe un blog, ma all'epoca prende la forma di un libro. La prima edizione del codex esce in due volumi, nel 1981, pubblicati da Franco Maria Ricci, il più sofisticato e folle, ma un folle positivo, degli editori italiani che, tra l'altro, è anche l'editore di Georges-Louis Bourges, narratore insuperato di racconti fantastici, dove realtà e finzione si intrecciano in maniera indecifrabile. Bourges usa spesso l'immagine metafora del labirinto che, in qualche modo, si ritrova nel codex. Chi intraprende il viaggio all'interno del bizzarro mondo di Serafini non può trovarsi perso in un labirinto dove volontariamente smarrirsi, e forse, ritrovare la dimensione fantastica del proprio io interiore, la versione infantile di se stessi che non distingue fra sonno e realtà. Al momento della pubblicazione, Franco Maria Ricci dà la sua personale indicazione per il giusto approccio al libro. Espugnato un convento e, soddisfatti i bisogni primari di cibo e saccheggio, qualche uno, o qualche barbaro ignorante, sarà certo penetrato sino alla biblioteca e la avrà sfogliato col meraviglia un codice miniato. Vorrei che il lettore sfogliasse il codex Serafinianus come quel guerriero. Ecco allora una delle chiavi di lettura del libro, ritrovare la capacità di provare stupore e meraviglia al di là dei nostri schemi mentali e delle sovrastrutture culturali. Le 30.000 copie stampate da Franco Maria Ricci vanno esaurite nel giro di poco tempo, malgrado il costo non proprio alla portata di tutti. Tra l'altro oggi un codex nuovo costa circa 120 euro, ma l'edizione originale ha un prezzo che balla attorno ai 4.000-5.000 euro, in base allo stato di usura. Nel corso degli anni il codex è poi diventato un libro di culto, amato in tutti i paesi del mondo, e apprezzato da artisti e scrittori come Tim Burton, Roland Berth, Federico Fellini, Leonardo Sciascia, Italo Calvino, che scrisse la prefazione all'edizione Rizzoli del 1993. La stessa prefazione accompagna la ristampa del 2013, uscita arricchita da nuove tavole. Lo straordinario successo di cui goda oggi il codex è spiegato dall'autore. I giovani di oggi hanno capito che il codex in realtà era un blog in anticipo. Un blog affidato a una rete, allora quella editoriale, prima della rete odierna. Un blog su Fogli Fabriano. Forse nell'era della tecnologia e di internet è per questo che lo amano tanto. Per Luigi Serafini i blog sono campi di libri che cantano, cioè lanciano segnali d'accoppiamento, e perciò stesso capaci di creare qualcosa di nuovo mai immaginato prima. Molti ritengono che Serafini si sia ispirato tra gli altri a Hieronymus Bosch e in particolare al suo Giardino delle Delizie, un quadro famosissimo, dove sono rappresentati animali immaginari, strani esseri umani e inquietanti formazioni rocciose. Dal canto suo Serafini fornisce ispirazioni molto più prosaiche, a partire dalla grande casa di campagna degli zii nelle Marche, dove da bambino trascorre le vacanze estive. Il grande parco ricco di flora e fauna lo affascina, mentre nella villa sono raccolti ricordi di viaggi che stimolano la sua fantasia. Non si sa se per burla o sul serio, Serafini racconta di aver ricevuto una grande ispirazione dalla sua gatta, che nel lungo periodo di produzione creativa gli si acciambellava sul collo, proprio lì dove c'è l'ipofisi. L'artista insomma tende a sdramatizzare le sue ispirazioni. L'uovo, spesso riprodotto nel Codex, non è una figura simbolica dai risvolti storico-filosofici, quanto piuttosto un ricordo del cibo tanto usato dagli studenti fuori sede, con pochi soldi. E persino lo sguardo allucinato dei pesci-occhi si può ricondurre alla salmonella presente nel mar Adriatico. Se c'è un accostamento che invece Serafini non accetta, è proprio il più frequente, quello con il manoscritto di Voynich, che dice che è poco interessante dal punto di vista artistico, secondo me è un falso, una sorta di antico esempio di fake news venduto a Rodolfo di Boegna, grande appassionato di alchimia. Eppure, il parallelismo con il manoscritto di Voynich è naturale. Entrambi i libri sono stati scritti con una grafia incomprensibile, entrambi contengono immagini fantastiche, ma legate al mondo reale, ed entrambi sono considerati misteriosi. Del libro dell'illustratore italiano siamo comunque assolutamente certi che si tratti di un'opera di fantasia senza alcuno scopo occulto. Del manoscritto di Voynich ancora nessuno sa dirlo, anche se personalmente sono completamente d'accordo con la versione data da Luigi Serafini. Si trattò di un'opera creata ad hoc per abbindolare un riccone dell'epoca. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.